Sì, oggi è stato attacomando, vuoi lo compagno a Baccio? Bra! Bra! Nella zona sicura, subito! Gino, Gino ha fatto la scelta! Avete evitato l'inseguimento, ottimo lavoro! Oggi andiamo? Quindi andiamo pure a Peppe Vieni a piegare la macchina Rischia! No, no, no! Andiamo a rischia Buongiorno! E sì! Noi siamo a casa! Ho nella casa! La prima cosa! Allora, ci siamo a fare l'amore con il rischiamento! Molteünde! A rischiare. Adesso! Ero! Mi sta andando! Sì! Mi hai fatto solo! Ma l'amore! Ah ma ti metto un po' in mucca Stanno avendo un po' di palla in faccia e stanno Andiamo a Peppe Ti è piaciuto Beppi? Beppi ci vuole una clip a casa eh? Ci vuole una clip eh No, rimane un lodo perchè ci vuole dare troppo belle spalle Rimane un lodo, fai il tuo giro, fai questa cosa, facci l'istruzione al regime E tu G? A G si